Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Oh buoni Ah 25 andiamo uomo Tanti anni Dove sta la 25? Una franciulla Una franghina Top franghino Scusatemi Scusatemi Una franciulla Poi possiamo andare in due stelle Cosa bella Maro Che cazzo Che cazzo Come ti fai con me La fai con me E' troppo grande Ah.. Oh bello Vai vai venimi Voi ci fai Eh si Ci fai con me Eh eh sta schifo se vai allo stand di origine di 12 sub andiamo guardate che me lo darà prova eh prima di 10 sub e poi andiamo allo stand no no ma non troppo ma non troppo ciao ragazzi bacione ciao ragazzi non 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 le non 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 sembra un polpo un polpo addirittura una bella bella ma voglio mangiare prima aspettiamo a luna a luna aspettiamo luna dietro dietro attenzione dietro sono qui, sono qua, sono qua, sono qua io sto chieto, io sto chieto con il giupito ammetto, più io sto sotto il mezzo, non può ma crescita è lo donato, è il pazzesino e il comunione, contattatemi su Instagram è il pazzesino e 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 il pazzesino è andato vai là conmigo vieni da qua va qua oddio ciao amore la semestima che nessuno ti f***eva cosa perché credevano solo loro fate la clip ragazzi che il ragazzo si salva la forza scappa scappa vogliono un clipato ma guardate strano ma sta capisciando quello vabbè nel bagno che si fa un saluto un saluto alla line attenzione oh è un buio è un buio è un buio oh 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 stai girando oh vai lupo dejet il lupo vai tensione dejet il lupo tensione tienzione tensione no 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 chiudere no 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 chiedele to vai dejet il lupo cazzo vai dagliela cazzo no di qua di qua vai vai dagliela ha vinto attenzione un applauso questo è formico faccio con me la cilla ciao spiderman qui la maschera ci sta ci sta ciao ragazzi perché troppo io no non ho mangiato niente era solo un assaggino ma io le disse cose 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 cose